La ribellione degli elementi. Ma cosa sta succedendo? Sembra che la natura si stia evolvendo, ghiacci che ci sciolgono nel mondo, portandolo sempre più a fondo. Uragani, tifoni e tempeste flagellano la terra, sterminando paesi e uomini come fosse una guerra. Incendi che ristrugono boschi e foreste, provocati da gente poco oneste. E poi tanti terremoti, che fanno macerie e morti, lasciando tutto intorno, desolati vuoti. Possiamo fermare tutto questo? Rispettando e amando con un piccolo contributo questa nostra terra che ci sta inviando un messaggio di aiuto.